A Gesù viene consigliato di non passare, di non entrare a Gerusalemme, perché Errote lo vuole uccidere, quindi se lui si vuole salvare deve cambiare direzione. Conosciamo bene però la risposta di Gesù, sappiamo bene perché lui è venuto, non per salvarsi, ma per salvare. E questo vale anche per noi, che ci porta a interrogarci, a chiederci, ma io vivo la vita per salvarmi? Per me stesso? Per i miei progetti? Per la mia realizzazione? O io vivo la vita per gli altri? Per salvare gli altri? Per essere un segno di redenzione per gli altri? Chiaramente dinanzi a questa proposta uno si potrebbe impaurire, dire ma io chi sono? Cosa posso fare io per gli altri? A stento riesco a salvare me stesso, come posso salvare gli altri? Ecco allora ci viene l'aiuto quanto oggi Paolo ci dice nella lettera agli Evesini, lui parla di armatura di Dio, parla di calzari, parla di scudo, di elmo, cioè solo chi si arma di Dio, cioè si riveste di Cristo, può vivere la sua vita a servizio degli altri. Solo la grazia di Dio ci rende strumenti di redenzione per gli altri, solo la docilità allo Spirito Santo fa che la nostra vita sia non per noi ma per gli altri. Che il Signore ci doni nel cuore il desiderio non di salvarci ma di salvare gli altri perché salvando gli altri compiamo noi stessi. Buona Missio.